Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning Oggi porto un video veramente assurdo, anzi direi una serie di video Questo sarà il primo riguardo una cosa fighissima secondo me Che volevo condividere insieme a voi Oramai siete abituati a vedere spesso le mie postazioni di lavoro Dove modifico le cose, faccio cose nel mio garage E' abbastanza obsoleta, rovinata, non mi piace Quindi ho deciso di portare una serie di video riguardo una specie di rinnovamento Della mia postazione di lavoro nel mio piccolo garage L'area è molto stretta e quindi non ho a disposizione grossi spazi, grosse aree di lavoro Grossi banconi, grossi cassetti, attrezzi, roba del genere E quindi ho deciso di riuscire a organizzare al meglio quello che ho nel garage Per fare una postazione di lavoro più gradevole, più funzionale, più utile Da qui più o meno riesco a farvi vedere l'area di spazio che ho a disposizione Da la parete di sinistra a quella di destra sono due metri e qualcosa E come potete notare lì dietro ci sono delle cassettiere Praticamente sono tutte messe male anche di diverso tipo Quello che vi consiglio per una postazione ideale è quello di utilizzare ciò che avete Quello che andrò a fare sarà spostare più in là di 3-4 cm tutto il banco di lavoro con i cassettieri Cosicché questo si possa abbassare E andremo a portare tutto a un piano unico Ho già comprato un piano di lavoro 60x60 da mettere qui sopra Così già questo lo metterò a livello con questo Poi ho comprato un tappeto tra virgolette in gomma PVC da mettere sopra Così diciamo non so se notate il legno qui è tutto rovinato Si gonfia con l'acqua cose liquidi si rovina Quindi con quello siamo sicuri che non si rovini Non si bagni non si gonfi eccetera eccetera Poi se si rovina si toglie e si cambia a poco costo Quindi ragazzi buona visione Eccoci dunque con l'inizio di questo video Di questa serie di video su questo cambiamento Che porterò al mio garagino Questo è un lavoro ragazzi Che diciamo viene fatto per mandarvi un messaggio Ovvero non andate alla ricerca del bancone da lavoro perfetto In stile bad offervi perché non serve Ci possiamo accontentare di utilizzare ciò che abbiamo E trasformarlo nella postazione da lavoro perfetta per noi E per lo spazio che abbiamo Quindi quello che appunto vedrete in questo video È diciamo il riarridamento utilizzando cose che già sono presenti in garage Aumentandone la funzionalità Quindi oltretutto sono lavori diciamo a costo zero più o meno Perché andremo a risparmiare il più possibile E praticamente l'unica spesa che abbiamo fatto In questo video è stato l'acquisto del piano di legno E del tappeto di gomma Degli angolari in alluminio che vedrete più avanti E tutto questo si aggira circa sui 50-60 euro Non ricordo benissimo E poi per il resto videria e cassettiere eccetera E tutto ciò che avevamo già in garage Quindi diciamo l'unica cosa che è stata fatta È stata appunto come ho detto prima Riarredare il tutto Quindi abbiamo spostato tutte le cassettiere Più verso sinistra Così che le cassettiere di destra Avessero Stessero alla stessa altezza E proprio per andare a creare un piano da lavoro unico Lungo tutta la parete In questo video però non vedrete l'altro pezzo Che uscirà più avanti Quindi in questo video ci limiteremo quindi a spostare tutte le varie cassettiere Per dare spazio a queste due di lato Mettere il primo piano di legno Per allineare la prima cassettiera con il banco da lavoro Così che diventi tutto un pezzo Ovviamente nel frattempo si è fatta una pulizia Diciamo di primavera Se vogliamo chiamarla così Perché abbiamo veramente spolverato tutto E quello che vedete voi Lo vedete in dieci minuti Ma è stato praticamente tutta la domenica E quindi c'è anche un pezzo che non vedrete In quanto mi si è spenta la GoPro Quella del montaggio tra virgolette del tappeto di gomma Il tappeto di gomma è semplicemente appoggiato sul banco da lavoro Infatti abbiamo anche torto la morsa Per metterlo se no L'avremmo dovuto tagliare per fare il contorno della morsa Ma diciamo a noi le cose così A mio cugino non ci piacciono Quindi abbiamo cercato di fare il lavoro più pulito possibile Quindi abbiamo anche smontato la morsa E abbiamo applicato semplicemente sopra il tappeto in gomma Il tappeto in gomma quindi non è avvitato o quant'altro Ma è semplicemente appoggiato Una volta appoggiato si riavvita la morsa Si mette l'angolare L'angolare invece è siliconato Quindi praticamente tiene fermo anche il tappeto Così è anche più semplice andare a rimuovere il tappeto Una volta che si è magari rotto O tutto sbrindellato Uno lo vuole cambiare Svita la morsa e lo cambia Se no se uno lo va a incollare diventa tutto veramente più problematico Si potrebbe anche avvitare Però diciamo non ci piaceva bucare il piano di lavoro E anche lasciare tutte le vite a vista Quindi abbiamo preferito fare così Inoltre abbiamo rimesso a posto il pannello per gli attrezzi Potevamo metterli dietro in fila Però come potete vedere ci sta la presa della trifase Smontarla si poteva spostarla si poteva spostare Però diventava un lavoro troppo lungo E poi non avevamo i tubi delle curve per i tubi Quindi abbiamo lasciato perdere Abbiamo preferito fare così Che comunque va anche bene In quanto comunque abbiamo recuperato barecchio spazio Per attrezzi che prima non avevamo In quanto era più bassa rispetto alle altre due E che dire È stato un lavorone Sono contentissimo di averlo fatto con mio padre Infatti in questa serie praticamente la maggior parte dei video Saranno fatti insieme a lui Che comunque è sempre A me piace sempre fare le cose insieme a mio padre E me ne vanto sinceramente E niente Quindi Questo è quello che voglio fare arrivare a voi Utilizzate ciò che avete E ottimizzatelo al massimo Per le vostre esigenze Quello che vedrete nei prossimi video Sarà Probabilmente Un ulteriore piano Sopra le altre due cassettiere Così da portare tutto a livello E successivamente andrò a verniciare tutte le cassettiere Di rosso e grigio alluminio Così da uniformarne anche i colori Poi più avanti arriveranno anche sempre altre modifiche Che ovviamente riporterò in questa serie di video Siamo giunti alla fine del video È stato un video molto lungo Lo so ragazzi Però Ci siamo stati praticamente tutto il giorno Tutta la domenica a fare questi cambiamenti Tra andare a comprare materiale Montare tutto Mi piace molto come è venuto Sono veramente contento Penso che un risultato migliore Non si poteva ottenere E Ci sono anche Tanti altri lavoretti da fare Che porterò più avanti Con calma Perché comunque Non sono cose che devo fare con fretta Quindi ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi alla mia pagina Instagram Mitch Tuning Al canale YouTube Per questo video è tutto Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti